Benvenuti ad un nuovo episodio di Taking the Meek, oggi abbiamo con noi Alessandro Gori. Ciao Alessandro, come stai? Bene bene, si campicchia. Dai dai, bene si campicchia. Senti, so che sei a Roma in questi giorni, sei distante dalla tua Valdichiana, che tra l'altro, lasciamelo dire, io ho davvero un debole per la Valdichiana. Mi scuseranno gli abitanti delle altre valli, ma io credo che voi abitanti della Valdichiana siete davvero delle persone incredibili e bellissime, forse davvero dei migliori di tutte quelle delle altre valli. So che tu invece sei un grande amante di Napoli, vero? No, io sono un grande amante a Rivera Romagnola, molto più della Valdichiana. La Valdichiana, te ricordati, è un ex palude, è la Louisiana italiana, siamo tutti dei redneck, tutti figli di consanguinei, quindi non aspettarti troppo dai chiamini. Questa intro, in realtà, è legata al fatto che tu hai fatto, hai un pezzo, diciamo, storico, che poi hai scritto anche l'ultimo, sulla napoletanità, in cui dici, ma come mai ogni volta che c'è qualcuno di napoletano in una trasmissione, fermano tutto e fanno un minuto su quanto è bella Napoli, che oggettivamente è molto bello e tutto, e non lo fanno mai per le altre città. Allora volevo partire con questa dedica alla Valdichiana, che ovviamente, insomma... Bene, grazie, grazie. E poi so che sei un grande amante della Riviera Romagnola, so che tu passi, appunto, tutte le tue vacanze là, fondamentalmente tutte. Sì, sì, io passo un mese e mezzo d'estate in hotel, neanche il Principe o De Scalchi, però fai conto, un mese e mezzo in hotel perché voglio che l'estate in Riviera sia sempre più la normalità e non, come dire, le ferie, quel momento isolato in mezzo alla sofferenza di tutto il resto dell'anno, lontano dal mare. Certo, certo. Tra l'altro so che tu, appunto, vai sempre là e addirittura, se ho visto bene, non sei mai stato all'estero, non hai preso un aereo, cioè tu sei veramente un affezionato di quei posti... Sì, 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 io, sì, esatto, cioè, a Miano Marittima, per dire, o a Lido di Savio, o a Cervia, o a Pinarella, o a Cesenatico, a Rimini, cioè, diciamo che ovunque, ogni panchina, ogni sala giochi, ogni minigolf mi evoca un ricordo e quindi questo io lo preferisco allo scoprire nuovi luoghi che poi, in realtà, li scopro e come, perché io durante l'anno sono sempre itinerante, però mi piace tornare un po' nel luogo del delitto. Chiaro, chiaro. E anche con la Val di Chiana, in realtà, tu hai un rapporto, credo, molto importante perché dicevi, appunto, che non ti trasferiresti per niente al mondo, forse in altre città e ci tieni particolarmente ad abitare in quel luogo. Sì, sì, no, cioè, io, nel senso, anche quando mi è stato proposto di fare l'autore televisivo e magari mi dovevo trasferire a Roma o Milano, ho sempre detto di no, sia perché non mi piacerebbe fare l'autore, sia perché io devo stare nella casa dove sono nato e dove voglio crepare e quindi, ecco, non sento il bisogno di andare da un'altra parte. Ma quando dici nella casa dove, intendi proprio la casa o il luogo? Ma intendo il luogo perché io, fortunatamente, c'ho qualche casa per dire, quindi magari scelgo anche dove stare per dire, e quindi questo. Chiaro, chiaro. Senti, allora, per introdurre un po' il tuo, così, il tuo lavoro artistico, io direi che tu sfuggi alle classificazioni convenzionali, sei, diciamo, un personaggio che è un artista molto, molto atipico. Se dovessimo un po' infilarti in alcune categorie, ne troviamo due abbastanza, così, chiare, no? Uno è quello di scrittore e uno è quello di comico. In realtà, su entrambe queste due cose, tu, come ho già detto, sei particolarmente tipico. Come scrittore sei particolare per almeno due ragioni. La prima è le cose che scrivi, di cui, appunto, dopo andiamo a parlare, ma che sono molto, molto particolari. E la seconda è che tu tendi a preferire alla forma romanzo, che è un po' la tipica forma su cui ci si confronta tra scrittori, tu preferisci fare cose diverse, tra cui, appunto, questi almanacchi eterogenei di cose molto diverse tra loro, che, appunto, sono pezzi brevi, sono racconti, sono varie cose, no? Che tu, in qualche modo, unisci nelle tue opere. Come comico, anche se è particolare, perché sei un comico ma fai poche battute, in realtà, nel senso che il tuo approccio alla comicità è diverso da quello del battutista o di quello che per forza deve far ridere, no? In realtà, tu, da bambino e da ragazzo, volevi fare musicista, quindi, insomma, come ti rispondi quando qualcuno ti chiede che lavoro fai? Ecco, questa è la domanda. Ma guarda, io, infatti, preferisco dire scrittore e monologhista. Lo preferisco a comico, a stand-up, a performer, satirico, che... No, io sì, io volevo fare musicista. Io, la scrittura non è mai stata fra le mie passioni, però ho letto 20 libri in vita mia a dire tanto, mentre ho sempre amato la musica, però sapevo di non avere le skill per fare il musicista. E invece vedevo che, non tanto come scrittore, ma quanto come scrittore di cose mie, diciamo, c'avevo qualche chance in più, sono sempre andato bene anche a scuola. E quindi, niente, a un certo punto, nel 2005, proprio mentre mi stavo per laureare in psicologia, quindi dovevo pensare a tutto, tranne che a distrarmi, però quando, come dire, non so io a cercare... Esatto, il perdere tempo, il tempo perso, mi viene a trovare. E quindi aprì questo blog, Lo Sgargabonzi, nel 2005. E in questo blog scrivevo i miei monologhi, i miei racconti, non ho mai scritto cose da blog. Poi nel 2013, otto anni dopo, esce il mio primo libro, Le avventure di Gunther Brodolini, e niente, praticamente inizio a fare queste presentazioni del libro nella mia città, o comunque poco lontano, al massimo a Siena, a Firenze, e noto che durante queste presentazioni nelle librerie, viene diversa gente anche da fuori dalla Toscana, perché mi conoscevano per il blog, perché seguivano il blog, e finisce che in queste presentazioni, invece di parlare del libro, mi chiedono di leggere i monologhi che scrivevo appunto sul blog. Fatto sta che, niente, di lì a poco mi chiamano dal Lago Film Festival di Revine Lago. Mi conosco molto bene, è abbastanza vicino a casa mia. Ah, vedi, vedi. Certo, io sto a Padova, quindi insomma, non ho detto di stare. Ah, penso, penso. Si è stato diverse volte, certo. Sì, sì, mi chiamava Mattia Coletti, del Lago Film Fest, e mi chiede di fare un, diciamo, un fuori programma di dieci minuti durante la premiazione finale del corto vincente. Io dico, vabbè, ok, e quindi io vado là, leggo queste venti curiosità su Aldomoro, di fronte a questo pubblico, c'erano state comunque un 500 persone, secondo me, senza nessuna emozione, perché io non sono mai stato emozionato quando vado su un parco. Però facevo una cosa che non avevo mai sognato di fare, per dire, che non è che mi desse così tanta soddisfazione. Fatto sta che poi hanno iniziato a chiamarmi nei locali, sono stato anche abbastanza fortunato da questo punto di vista lì, perché si è creato un passaparola, e niente, di lì a poco è diventato il mio lavoro, e ora lo porto avanti, diciamo, nel senso, non con sofferenza, però neanche con un'enorme gioia, insomma. Quindi, diciamo, monologhista a tuo malgrado, ecco. Sì, 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 nel senso che a me quello che piace in particolare è scrivere, scrivere i pezzi, cioè, no, aspetta, a me non piace scrivere, io non sono un malato di scrittura, non è che io durante la mia giornata scrivo, o sono metodico in questo, scrivere non mi piace, mi piace il risultato finale, il risultato finale mi motiva a scrivere, scrivere è faticoso, è noioso, e scrivo solo nelle situazioni di comodo, per esempio, sotto l'ombrellone al mare, per dire, d'estate, mentre aspetti di fare il bagno, per dire, quelle situazioni in cui sono a mio agio, allora è spettacolare. Spesso al telefono, vero? Sì, 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 su un cellulare, mentre sei felice, mentre sei comodo, mentre vedi cose belle intorno, allora dice, madonna, io ho questo cellulare in mano, qui posso anche creare un colossal, se invece io ci avessi dei sogni di fare il regista, al massimo lo potrei pensare il colossal, qua sotto, invece no, ce l'ho in mente, afferro il cellulare e anche sotto il soleone creo il mio Ben Hur, il mio film alla moda di Cecil B. De Mille. Fantastico. Senti, e quando dici che volevi fare il musicista ma ti mancavano le skill, quali skill ti mancavano per fare il musicista? Ma perché, cioè, io avrei voluto fare, fra conto, il compositore, per dire, però vedevo che anche a scuola, semplicemente, anche semplicemente alle scuole mediche, ci sapeva la musica, non è che ero un granché, insomma. Ok, ok. E poi mi ha sempre spaventato approfondire, approfondire la musica perché lì avevo dei riferimenti troppo alti, perché nel momento in cui, che posso dire, cioè, anche oggi no, io mi rendo conto, c'è un musicista che crea una canzone pop, ma se nel mondo c'è stato Don't Look Back in Anger degli Oasis e la canzone del riformatorio dei Baustel, ti devi confrontare con questi due precedenti, devi fare qualcosa che non sfiguri rispetto a questo, invece fai qualcosa di più decostruito, ok? Deve essere una cosa che non sfigura rispetto a Oma Down di Mike Holfield, invece io non sapendo niente di quel che c'è scritto nei libri, perché non leggo libri, non so quel che c'è scritto dentro, conosco solo le copertine. Non ti preoccupa il benchmark, diciamo. Esatto, io sono più tranquillo e vado in sicurezza. Ok. Senti, parlando appunto delle cose che tu scrivi, è molto complesso, credo, raccontarle, per cui ho preso degli appunti su una tua frase, che tra l'altro, se non sbaglio, hai così detto dopo la soluzione per il noto processo sul tema del Denis Pipitone. La soluzione con formula piena, ci tengo a ricordare, con tanto di PM l'accusa che ha chiesto la soluzione con formula piena. Certo, certo, abbiamo saputo. Senti, tu hai detto in quell'occasione, quello che scrivo, o leggo, è il sottoprodotto dell'informazione, degli slogan, dei titoli sensazionalistici, del menefreghismo travestito da solidarietà, degli automatismi di pensiero, della retorica, dei meccanismi manichei, della cronaca. Mi sembra assolutamente chiarissimo a livello di intenzioni e di motivazioni. Cioè, nonostante, Alessandro, molto spesso, tu lo sai, l'automodalità non è stata compresa da tutti, no? Abbiamo, hai avuto alcune volte dei ban da parte delle piattaforme social, cosa che, vabbè, bannano ormai tutti, quindi, insomma, quello non è un metro di giudizio, ma, insomma, comunque ti hanno bannato un paio di volte, o forse di più. Sei stato, l'abbiamo appena detto, denunciato, comunque, dalla mamma di Denise Pipitone. Hai subito attacchi da parte di hater. Sei stato criticato, per esempio, da Luttazzi, che ti ha definito più volte fascista, cosa che non credo minimamente tu sia, ma, insomma, esatto. Ma questo racconta un po' il fatto che molto spesso vieni frainteso, no? Il punto della mia domanda è quanto, secondo te, e quale pubblico capisce bene le tue intenzioni e quale no, invece, e quanto, se ti dispiace, quanto ti dispiace essere magari frainteso in alcune occasioni o da alcune persone, ecco? Guardi, dico, essere frainteso chiaramente mi dispiace rispetto a essere compreso in quelli che sono le mie motivazioni, però penso che se quello che scrivo fosse qualcosa di didascalico, calligrafico, didattico, fatto per non essere assolutamente frainteso, sarebbe con le unghie spuntate, sarebbe una cosa, un gesto pleonastico che lascia le cose esattamente come le trova. Non che io penso di cambiare le cose, però, come dire, quello che cerco di provocare è una sensazione, comunque, di fastidio, questo. Ma ti faccio una domanda un po' personale. Quando è scoppiato il caso di Piera Maggio, appunto, la madre di Rini Spipitone, che ha deciso di quella l'arte, insomma, per quel tuo monologo, anzi, per quella, cos'era, era il lancio di un tuo monologo, no? Sì, si sta parlando del 2014, ci tengo a dirlo, che poi è diventato un processo, è andato a processo nel 2021, quindi sette anni dopo. Sette anni in cui, penso tu, non sia stato magari così. La domanda è, ma cosa hai pensato e cosa hai provato in quel caso? Cioè, cosa ti è arrivato addosso, come emozioni, come pensieri, se ti è arrivato qualcosa, insomma? Ma guarda, io ti dico, sono sempre stato abbastanza tranquillo, perché perfettamente in pace con la mia coscienza. Credo che uno si debba confrontare con la propria coscienza e poi dopo però tirare una riga e andare avanti. Credo che per fare anche, per dire, black humor, serva dieci volte la sensibilità e l'empatia che servono nel raccontare delle confortevoli barzellette. Io, quella sensibilità, quella empatia, mi pongo il problema di averla, poi non è detto che ci riesco sempre, però il problema me lo pongo. Sì, sì. Ti parlo più di quello che dici tu, più di quello che capiscono gli altri, no? Ovviamente. Sì, sì, esatto, esatto. Ma senti una cosa, in realtà nelle tue opere, diciamo, io trovo alcuni aspetti, no? Ne li compaio. Uno, il tema del bene e del male, no? Molto spesso i tuoi personaggi e anche le cose che scrivi, il bene e il male non sono assoluti, no? Esatto. Nel senso, c'è sempre del bene e del male, citiamo l'ultima cantora di Madame, c'è sempre del bene e del male e del male e del bene, no? Sì. E poi c'è il tema della crudeltà, no? Nel senso che molto spesso i tuoi personaggi sono o fanno azioni crudeli, però quella crudeltà sembra quasi ingenua. Nel senso che il protagonista di questa crudeltà sembra privo della capacità di comprendere se stesso e le azioni che succedono e il contesto, no? Questo tipo di approccio è molto distante, credo, dalla società odierna. La società odierna tende a semplificare molto spesso, a dare giudizi appunto assoluti, a giudizi veloci, giudizi appunto molto rapidi e molto generali sulle cose, no? Mi chiedo, tu con la tua arte in qualche modo critichi e combatti anche proprio questo, cioè il modo della società di semplificare tutto? È un po' questo anche? Il manicheismo è uno dei problemi dei nostri tempi, è una delle cose proprio che mi dà più fastidio e quindi una cosa che mi dà fastidio mi motiva a scriverne. Non posso dire che non dormo la notte per l'emergenza climatica di cui non me ne frega niente. Allora, sul manicheismo per dire, diciamo che mi ha sempre colpito fin da gli anni 90, quando seguivo quel processo di primo grado appunto a Pietro Pacciani, che oggi sappiamo tutti che non è il mostro di Firenze, oltretutto lui è morto libero per un processo d'appello che lo vide prosciolto, poi l'appello fu rigettato, non avrebbero fatto un altro e lui morì. Però ecco, le indagini sul mostro di Firenze, per esempio, sono andate avanti nei anni, ma perché dico questo? Perché mi ricordo quel processo di primo grado, Pietro Pacciani ebbi una grande pena di questo orco, perché orco era, perché era uno che aveva abusato delle figlie, che era stato violento con la moglie, era uno che aveva commesso un omicidio, per cui aveva pagato da giovane, e fai conto io vedi che questo orco era il personaggio giusto nel posto giusto, al momento giusto, cioè era perfetto per essere odiato, era perfetto per creare da casa quel gruppo di persone che non gliene fregava niente se lui era veramente il mostro di Firenze o meno, ma gli andava bene che la giustizia trionfasse seppur in maniera teorica, che lui lo fosse o meno, lui si meritava di scontare la pena per 16 omicidi, anche se non li aveva commessi, perché? Perché erano schifoso, perché nessuno lo voleva toccare, e lì vedi la solitudine proprio del mostro, cioè qualcuno che era stato un poco di buono nella vita, e per i propri crimini lui aveva pagato per tutti, anche per le molestie alle figlie, perché lui fu attenzionato mentre era in carcere, però il pubblico da casa per sentirsi migliore per dire, non fa sconti, e quindi va bene che lo buttate nella peggio cella arrugginita e grondante percolato e buttate via la chiave. Ecco, questa cosa qua è appunto vedere il male nel bene. Io il male non lo vedevo in Pacciani, lo vedevo nel pubblico da casa, lo vedevo nel, che posso dire anche nel PM, che non si soffermava tanto sui fatti criminosi, quanto indugiava su tutti i dettagli lubrici, sull'oggettistica trovata a casa di Pacciani, e quindi questo insomma. Io mi ricordo quando fu condannato e lo vidi piangere, bestemmiare, rosso in volto, risucchiato dalla folla, io ebbi una grande pena di quest'uomo, e io ai tempi pensavo che lui fosse il mostro, e comunque ne ebbi pena. Ed è un po' questo forse che tu fai, nel senso proprio vedere l'aspetto di umanità, e per umanità c'è anche, nell'umanità c'è il bene e c'è il male, no? E quindi quell'umanità che è fondamentalmente nell'uno o nell'altro, no? Sì. Ed è molto interessante come cosa. Senti, c'è un aspetto invece su cui tu sei molto contemporaneo, secondo me, dimmi se sei d'accordo, cioè il rapporto con la realtà. Nel senso che nei tuoi testi, quasi sempre, si mescolano in maniera organica fatti reali e fatti inventati, fatti corretti e fatti scorretti, no? E diventa un po' tutto il tuo racconto potenzialmente verosimile, ma potenzialmente anche inverosimile, no? Io trovo un po' un parallelismo tra questa cosa e la società di oggi, no? Nel senso che oggi, tra fake news, deep fake, clickbait, complottismi vari, siamo un po' in un mondo in cui tutto quello che ci viene dato e detto dai media, dall'informazione, dalla stampa, possiamo crederci, ma possiamo anche non crederci, ma la verità è che non si sa, no? Noti anche tu questo parallelismo, cioè tra il fatto di come tu costruisci le tue storie e di come è oggi il mondo dell'informazione e dei media? Guarda, non ci ho mai riflettuto, devo dire, perché io mi tengo abbastanza lontano da l'informazione, l'attualità, non ne so niente. Esatto, sì, ma arriva, infatti a me piace confrontarmi con quello che in maniera totalmente passiva mi resta impigliato ai neuroni, per dire, no, io non ho mai visto una partita di calcio, però se uno mi dice elenca 100 giocatori, io te li dico, magari te ne dico anche 200, perché negli anni tutti questi cognomi ti entrano in testa. E' il primo che ti viene in mente? E' Cerezzo, detto anche Cerezzo. Hai sentito? Ok, ottimo. E fai conto che mi piace su una cosa di cui io so poco confrontarmi con la sicumera di una che è un grande esperto. Quindi un pezzo, per esempio, che io non ho mai scritto, ma mi piacerebbe scrivere, è la radiocronaca di una partita di calcio usando tutti i termini tipo fuori gioco o silver goal che mi sono rimasti in testa e che non ho idea di cosa significa. Ok, e quindi ecco, mi piace anche quando scrivo apparire come una sorta di marziano che si finge uno scrittore, ma se lo leggi capisci che c'è qualcosa che non va, che ci sono delle imprecisioni di troppo, c'è una azotemia alta, una poca lucidità. io nell'ultimo libro in confessione di una coppia scampinista al figlio morente, c'è un racconto che in realtà io lo spaccio come un inedito di Indro Montanelli che io ho ritrovato, ma di Indro Montanelli non ho mai letto un rigo, io ho scritto come io immagino che lui scriva, Indro Montanelli, però io non ho mai letto un libro, quindi magari ci sono andato anche lontano, poi mi piaceva quest'idea qua e sì, e poi per quanto riguarda il mischiare la realtà con la fantasia una cosa che mi ha sempre affascinato dai tempi quando alle medie ci spiegavano che Ulisse raccontava la sua storia e per essere creduto mischiava a fatti veri fatti totalmente inventati in modo che anche quelli inventati passassero per veri e quindi oltretutto la realtà ha una sua una sua gravità nel senso di peso e io fin da piccolo ho capito che io sarei difficilmente riuscito ad adattarmi al mondo e ho sempre cercato di fare il contrario cioè di adattare il mondo a me stesso io sono sempre stato molto nel presente più che nel futuro mi sono sempre accomodato nel presente ho sempre avuto una sorta di allergia per i progetti a lungo termine o anche semplicemente le responsabilità di costruirmi qualcosa intorno e ecco questa maniera qua per dire è stata un modo per cercare di adattare il mondo a me e la stessa cosa anche nei racconti la realtà spesso e volentieri è noiosa e quindi io nella nella scrittura posso sovvertire le leggi della fisica e della logica e quindi lo faccio cioè è la stessa cosa che fa per me Renato Pozzetto nel film saxophone il film suo come regista sceneggiatore e attore ha a disposizione la macchina del cinema e lui crea delle cose fantastiche deliranti film capolavoro che se non hai visto ti consiglio ok ma senti ma è proprio cioè magari questo cioè il fatto di avere un po' un problema con i progetti a lungo termine che ti fa anche non amare particolarmente la forma romanzo o è qualcosa di diverso guarda io in realtà un romanzo l'ho scritto è stato il secondo libro che è Bolbo che però nonostante sia un romanzo molto libero e decostruito però non amo nella scrittura cioè non amo l'idea di scrivere un romanzo perché a me piacciono le scene madri a me i momenti di snodo o quelli funzionali a arrivare da qualche parte mi annoiano quindi l'idea di scrivere un libro di racconti è in anellare penso a Joselaine non ci dè ancora sono 50 scene madri e 10 interludi e quindi posso ragionare a un libro come fosse un disco quindi vedi lì torna la mia voglia il mio rimpianto nel essere stato un musicista e ragionare proprio su una su una track list oppure intendere un libro come una sorta di rhapsodia prog che ci abbia la sua parabola per dire questa è una cosa che a me piace piace parecchio insomma ecco decidere la track list d'un romanzo è una cosa che mi dà una enorme soddisfazione chiaro senti nelle tue opere una tua romanzo scusa di un'antologia di una sì le rifiuti una volta mi ero preso dal punto almanacchi eterogenei di cose diversissime trovate mi era molto piaciuta questa rifiuta ah vedi vedi sì senti una cosa abbiamo detto che nella tua nella tua diciamo nelle tue opere manca spesso il cioè viene meno il rapporto con la realtà no tra realtà e il reale un'altra cosa che viene meno mi sembra è il classico diciamo patto narrativo no nel senso che il patto narrativo cos'è è quell'accordo tacito tipico della letteratura in cui il lettore consente a sospendere l'incredulità e quindi a credere fondamentalmente a quello che viene detto dall'autore sapendo che in realtà molto spesso sono cose inventate e l'autore si impegna si obbliga diciamo a mantenere un filologico razionale credibile e realistico no questa cosa in te viene assolutamente meno c'è secondo te Alessandro un patto che tu fai con il lettore magari diverso e se c'è qual è in realtà credo che non ci sia nessun patto in realtà perché io quello che scrivo sono le uniche cose che mi vengono che so scrivere perché io la versatilità per dire non è assolutamente fra i miei pregi io se mi chiedi di scrivere qualcosa per dire un un fantasy io faccio scena muta cioè non saprei proprio scrivere la prima parola per dire quindi il rapporto col lettore o il patto stipulato con esso non è tanto un argomento del giorno per me cioè io a me piace scrivere in purezza qualcosa che mi rappresenti e che piaccia a me e nel momento in cui questo trova un pubblico guarda ti dico questo se uno mi facesse la domanda per chi scrivi la mia risposta sarebbe molto triste ti direi che scrivo per me e per quelli che già la pensano come me gli altri non mi interessano ok perché credo che in diciamo insomma su certe cose che magari scrivo vado un po' a cercare anche chi mi capisce insomma specialmente quando parlo per esempio di morte certo senti a proposito di morte allora visto che la citi tu hai un rapporto con la morte molto negativo nel senso che più volte sei tornato su questo tema e al punto di dire una cosa su cui io sono super d'accordo che non capisci chi dice che la morte alla fine ci sta nel senso che io sono un grande amante della vita e so che anche tu lo sei per cui ti capisco molto bene sei un grande quindi sei un grande diciamo così non ti piace per niente il fatto che prima o poi modiremo e invece sei un grande amante dei giochi da tavolo no? qual è il rapporto tra queste due cose? eh guarda per me è un rapporto in realtà molto stretto per me io in giochi da tavolo ho più di 3000 giochi è proprio la mia la mia passione credo tu sia uno dei collezionisti più importanti ma guarda no no in Italia ce ne sono io io impallidisco di fronte a altre collezioni si sta sicuro poi di giochi ti contano che ne escono circa 3000 ogni anno 3000 giochi nuovi ogni anno vengono immessi sul mercato se che io figurati ho quasi un patrimonio è 3000 giochi da tavolo è vero è vero io tutto quel che guadagno spendo in giochi da tavolo grande ti voglio dire ti voglio dire che che appunto il gioco che è appunto la mia la mia passione è molto legato secondo me con la morte perché io prima di tutto gioco i cosiddetti german game cioè i giochi moderni con il nome dell'autore sopra il titolo per esempio io amo molto Rainer Nitzia o Wolfgang Kramer che sono i miei autori preferiti e fai conto che a me quel che mi ha sempre affascinato del gioco è che il gioco nella sua struttura nel nel silenzio che c'è nella testa dei giocatori attorno a una plancia i giocatori cercano di ottenere il meglio da quella mano di carte da quella partita si impegnano per vincerla molto più di quanto si impegnano magari nella vita per al lavoro dove guadagnerebbero dei soldi al gioco da tavolo non guadagnano assolutamente niente e poi li vedi tutti concentrati con questo silenzio nella testa questa concentrazione ieratica la vita è lasciata fuori per un'ora e mezzo di quella partita la vita il mondo la vita è lasciata fuori e loro sono lì per scelta perché il gioco è l'unica cosa che puoi fare solo per scelta se ti hai giocato costretto non hai giocato anche se hai vinto per dire e per me questo è un tentativo dell'essere umano di allontanare l'ansia della morte in questa sua concentrazione ieratica è come dire un'illusione però ci vedo dietro questo ma proprio questo è nella struttura del gioco stesso cioè il gioco non è fatto di ambientazioni il gioco è fatto di meccaniche di astrazioni degli ingranaggi che tu senti girare dell'algoritmo che c'è dietro al gioco un algoritmo che spesso è magari anche demandato agli altri giocatori tipo nei giochi di asta per dire però nei giochi quello che quello che fai sempre è cercare di dare ordine al caos il gioco è caos che sia un lancio di dadi che sia appunto una mano di carte che sia anche semplicemente le azioni degli altri giocatori che puoi prevedere fino a un certo punto ma con le quali ti devi confrontare è una appunto un fattore caotico e il gioco ti dà l'illusione di poterlo ingabbiare e quindi alla stessa maniera il caos è la morte e hai l'illusione di poterla in una qualche maniera risolvere per dire per me sono molto legati queste due certo certo molto interessante ma infatti senti c'è una cosa che a me non torna quando ti sento raccontare come autore comico nel senso che sicuramente tu fai questo però in realtà molto spesso io trovo una grande malinconia nelle cose che tu fai nel senso leggo i tuoi pezzi che sicuramente sono pezzi comici però mi rimane addosso a volte una certa malinconia ti chiedo sono io è il mio problema tra virgolette oppure è vero cioè tu sei malinconico e metti malinconia nelle cose che scrivi ma probabilmente probabilmente sì magari voglio dire cioè a me diciamo questo che a me l'ingrediente comico a me mi serve è come quando ti prendi un bicchiere d'acqua e ci metti dello zucchero se poi ci metti un po' di sale quello zucchero è ancora più dolce ti risulta ancora più dolce quel bicchiere sai che non ho mai provato la stessa cosa al contrario ovvero se te metti un episodio drammatico in mezzo a due episodi comici quell'episodio già di suo drammatico diventa spettrale vertiginoso terminale e quindi ecco a me la comicità mi serve per fare questi grossi escursus per passare da uno zenith a un violento nadir e questo ecco se scrivessi sempre con una certa temperatura questo escursus anche violento non ci sarebbe per dire quindi mi piace molto insomma questo appunto passare dal comico al drammatico anche in maniera per dire senza soluzione di continuità certo infatti è una delle tue cifre di questa assolutamente sì perché uno potrebbe pensare che lo faccio perché la voglio dire grossa perché sai purtroppo nel campo dell'umorismo nero spesso e volentieri è una macro categoria che meno idee hai più ti ci butti ci si buttano tutti e quindi niente spesso e volentieri c'è questa questo gioco al rilancio di chi la dice più grossa certo però dietro questa cosa c'è sempre una goliardia che appunto a me non piace che non è assolutamente fra i miei ingredienti insomma infatti raccontavi anche di quella di quel tuo così quel tuo sentimento che hai provato in quell'occasione di quei commenti che hai trovato su fanpage mi sembra rispetto a voi raccontata tu insomma all'ottantenne morto esatto esatto praticamente niente mi sembra fosse su fanpage c'era una notizia di un in america di un ottantenne stroncato da un infarto durante un'orgia dove c'era anche la moglie e fatto sta i commenti in automatico erano dei commenti assolutamente proprio ridanciani cioè c'era gente che ha risolto la giornata cioè questo qua è nel risucchiato dal caos indeterministico lui però nel frattempo insomma libera le endorfine certo a tutti questi sconosciuti che con la tazza di cappuccino davanti al al computer la mattina si leggono sta notizia e la ripostano nelle loro nelle loro pagine e nei loro profili divertitissimi è proprio l'atteggiamento diciamo social tipico oggi che è quella cosa della semplificazione di cui parlavamo prima qualunque notizia è un mezzo per il quale scherzare a volte le notizie ti lascio ma a volte le notizie sono notizie su cui riflettere o notizie trammatiche esatto a me quella notizia lì per dinti mi dette una grande malinconia una grande amarezza una grande tenerezza e cioè vedere proprio come l'essere umano si aggrappa veramente alla vita per dire quindi in quella descrizione in quelle immagini che mi vennero in mente nell'apprendere sta notizia quelle immagini mi grondavano una grande umanità una grande fragilità e non qualcosa che mi 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 suscita una risata facile per dire oppure ultimamente che lessi di questa questo questo contest di golf per malati di alzheimer ok sotto c'erano tutte 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 battute tutte risate ma tutti e tutti cioè nel senso un qualcosa e sei ti metti in fila sei il milionesimo a fare la stessa battuta che ha fatto quello prima perché l'alzheimer deve fare ridere l'alzheimer che è la peggio cosa che può succedere ad un essere umano o ha o ha i propri cari da avere un malato d'alzheimer in casa la peggio cosa no no diventa questi vecchietti smemorati e un po' pazzi che tornano dei bambini certo cioè niente questa cosa qua mi dà mi dà molto mi dà molto fastidio al tempo stesso tu nei tuoi nei tuoi libri nei tuoi pezzi scherzi su tutto e questo mi interessa capire nel senso il tuo scherzare sui malati terminali ad esempio cosa ha sotteso sotto no il pezzo venticolosità su malati terminali che è appunto nell'ultimo libro non è assolutamente un pezzo come dire che irride i malati terminali come sarebbe possibile ma è un pezzo in cui io in queste venticolosità cerco di creare una risata verde una risata con il groppo in gola un qualcosa che che ti faccia sta male perché è una sorta di di lente sulla nostra fragilità sulla nostra mortalità su come la vita ci umilia su come ci fa crepare sotto neon accecanti e dopo aver visto sparire magari le persone a cui vogliamo abbiamo voluto bene per dire su come non ci risparmia niente neanche le nostre piccole morti quotidiane il passano le stati le stati sono sempre uguali a loro stessi a loro stesse però noi siamo sempre meno forti abbiamo sempre per dire appunto appunto sì meno meno possibilità per dire io riuscirò il prossimo anno a fare quella camminata o quella nuotata al limite che ho fatto quest'anno chi lo sa punto interrogativo però l'estate l'estate non invecchia l'estate la stessa è la stessa c'ha gli stessi colori di quando ero bambino e dietro la finestra vedo dei bambini in gita con la maestra al primo sole caldo d'aprile e io mi dico madonna ma com'è che sono diventato così che è successo perché sono diventato vecchio non me lo sono neanche accorto perché io sono ancora lì con loro è qualcosa per me di dolorosissimo questo infatti quando mi hai detto appunto che io non amo e te l'ho detto anch'io insomma il manicheismo un'altra cosa che non amo come la morte è declinata oggi oggi sembra una start-up che non vedi l'ora una cosa che non vedi l'ora una start-up spettacolare oppure una cosa che non vedi l'ora che ti accada perché adesso è tipo una festa caraibica con il daichiri e la cannuccetta con il ginocchio la morte una cosa che spesso penso è tipo che se ci fosse l'opportunità di fare un post sui social dopo essere morti credo che un sacco di gente lo farebbe e mi immagino anche come il tono il traguardo raggiunto l'esperienza fatta gli insegnamenti nel senso anche io trovo queste cose che a volte è la cosa forse una cosa della morte che è forse l'unica cosa che non possiamo raccontare una volta che ci è successo io immagino invece che fanno questa votazione dicono da ora in poi si può vivere per sempre a meno che uno decida di morire ok prima scelta questa seconda scelta no questa possibilità non vi è andata si muore tutti io scommetto che come dire la seconda scelta che sarebbe assurdo cliccare sulla seconda scelta tutti dovrebbero scegliere la prima si vive per sempre a meno che non decidi te di morire no no ci sarebbe un buon 50% delle persone che deciderebbe anche per me cliccherebbe sulla seconda inizierebbero magari anche come dire associazioni partiti politici a dirci no no ma guardate fidatevi è meglio la seconda è meglio che si muoia tutti e quindi alla fine per un 52% passa la seconda per dire ah quindi proprio plebiscito va bene ho capito tra l'altro tu hai avuto grande appassionato degli oensis insomma live forever è un grande pezzo degli oensis che racconti molto di questa voglia che si può provare di amare la vita la propria vita e di volerla proseguire ma la vita la vita vista giorno dopo giorno è uno spettacolo vista da lontano è un incubo chinghiano chiaro senti a proposito di comicità ho preso anche qua qualche appunto su alcune tue dichiarazioni sulla comicità tu hai detto che la comicità non è solo una sequenza di battute riuscite hai detto che una cosa può essere comica anche senza far ridere e che la comicità può essere emancipata dalla risata cos'è allora Alessandro se puoi in una frase proprio una definizione per te di cos'è la comicità domanda difficile forse in una frase magari sì ma è difficile fammelo estendere dai in due per me la comicità è un gesto libero consonante con la risata ma che riveli offra uno squarcio sui nostri meandri come questo questa è la frase e lì te la finisco però fammela espandere per me appunto il fine della risata non deve essere il fine della comicità non deve essere la risata non necessariamente spesso e volentieri la risata non è neanche il mezzo perché io non so neanche uno di quelli che dice la comicità debba far riflettere non sono d'accordo per me la comicità deve essere prima di tutto molto legata al proprio autore che non deve fare un servizio nei confronti del pubblico del pubblico se ne deve fregare deve fare la sua cosa la cosa che interessa a lui e quindi la comicità per me è un gesto libero selvaggio emigmatico malmostoso esoterico che sfugge anche a chi lo esegue e quindi ecco per me questa è la comicità che non è lontana a quell'astrattismo di cui parlavo quando parlavo delle meccaniche dietro ai giochi da tavolo ok ok chiaro va bene Alessandro senti una cosa so che tu non ami moltissimo parlare di te nel senso parli molto di te attraverso le tue idee le tue opere i tuoi scritti però non ami proprio raccontare tantissimo su di te quello che fai eccetera nelle mie interviste solitamente io chiedo sempre ai miei ospiti di raccontarci ecco una domanda che potrebbe venire fuori è ma raccontaci chi è Alessandro Gori quando non scrive non fa il comico e non gioca ai giochi da tavolo per esempio però non te la faccio proprio perché so che non ami parlare di te però ti chiederei se puoi una sola cosa su di te che il pubblico non si aspetterebbe e che invece ti riguarda fammi pensare una cosa posso dire che casa mia è una casa museo di un artista australiano che è Stephen Rhodes che è un illustratore che io amo particolarmente e quindi casa mia è ci sono circa 27 opere di Stephen Rhodes ok numero tra l'altro esoterico esatto sì ma poi casa mia è piena di soprammobili esoterici però io purtroppo resto un cartesiano puro quindi non c'ho però ecco sì diciamo che mi piace un po' questa quella estetica lì ok ok senti e parlando appunto della tua chiamare una riservatezza non posso non citare il fatto che questa è appunto la quattordicesima siamo arrivati alla quattordicesima puntata la quattordicesima intervista di questo podcast e tu sei il primo appunto che ha scelto legittimamente di tenere la camera chiusa è una scelta che fai molto spesso tra l'altro nel senso che tu non ami essere ripreso in video dalle telecamere quindi hai un tuo approccio abbastanza non convenzionale soprattutto in una società in un mondo in cui tutti vogliamo essere visti e tutti vogliamo vedere tutto la domanda che ti voglio fare su questo è ma pensi e a cui credo anche di sapere già la risposta ma la domanda è pensi che questa tua scelta assolutamente legittima in qualche modo ti danneggi cioè che limiti ti penalizzi la tua appunto notorietà la tua audience anche le vendite alla fine dei tuoi libri delle tuoi spettacoli cioè credi che ci sia un impatto su queste su queste metriche diciamo oppure pensi che in realtà non centri o non impatti oppure non te ne frega niente anche se guarda è l'ultima però immaginavo però argomentamela argomentamela cioè io se dovessi pensare di creare un contenuto di fare un video una clip da condividere su instagram o su tiktok a me guarda mi viene già una depressione nel formularla sta frase qua ecco lì veramente quel che faccio diventerebbe un lavoro diventerebbe una cosa anche umiliante per dire quindi non me ne frega niente se mi porta meno pubblico questa scelta di riservatezza va benissimo ma figuriamoci insomma non ho manco mai sognato di fare quel che faccio poi in ogni caso in ogni caso io so attratto dalle cose che mi fanno sta bene quindi ecco come dire scrivere mi fa sta bene tutto il paratesto molto meno ok ok e le interviste come ti fanno stare no no mi piacciono perché mi danno l'occasione di parlare magari anche seriamente di far sapere che non so una scimmietta che deve ballare per far ridere perché c'è a volte sta idea qua come perché a volte c'è un po' quest'idea ok ok va bene Alessandro senti io ti ringrazio davvero moltissimo di essere stato ospite di TecniMik grazie a te carissimo grazie davvero grazie a tutti anche per l'ascolto e o per la visione e alla prossima puntata ciao ciao